Si svolta nei giorni scorsi la festa dell'amicizia dei Lions Club, un bel evento Presidente. La festa dell'amicizia è nata circa 12 anni fa, aveva l'unico obiettivo quello di radunare tutti i Lions in vacanza sull'isola Dischia, mettere in comunione le idee, i pensieri, insomma tutto per accrescere un poco l'amicizia e la cultura personale sia del soggetto che del club di appartenenza, perché la festa dell'amicizia non è riservata ai soli Lions ma a tutti quanti anche di altri club. Quindi possiamo dire un confronto per crescere? Un confronto per crescere sicuramente, ma la festa dell'amicizia quest'anno è stata un poco più sentita delle altre, perché io ho messo in evidenza che oggi con le tecnologie moderne non si colloquia più, quindi una volta gli amici si vedevano, chiacchieravano, facevano la partita a carte, insomma avevano tempo di discutere, di ragionare, di confrontarsi. Adesso purtroppo con l'evento della tecnologia che da un lato ci ha avvicinato perché ha ridotto distanze e tempi, dall'altro ci ha allontanato perché non si comunica più verbalmente ma si comunica via web. Noi andiamo poi a vedere se il nostro pensiero è ben accetto andando a consultare i like, ma di questo passo il rapporto umano viene a mancare e quindi la festa dell'amicizia di quest'anno aveva proprio lo spirito di aggregazione, di mettere insieme più persone, di ceto sociale diverso, di club diversi, di appartenenza, ma con un unico obiettivo, quello di accrescere la cultura personale e quella del club. Francesco Gallitelli, una festa che è riuscita alla grande? Veramente sì, tutti questi anni abbiamo cercato anche di farla crescere lanciando ogni anno dei temi particolari, sia lionistici sia umanitari che si aggancia al nostro scopo come Lions Club. Quest'anno in particolare abbiamo lanciato il tema della campagna 100, che è una campagna di raccolta fondi per la fondazione Lions. Devo dire che c'è stato un ottimo riscontro da parte di tutti perché è stato molto sentito tutto il nostro discorso. Inoltre c'è stata una premiazione, cosa che avviene ogni anno, quale imprenditore è stato premiato questa volta? Noi abbiamo istituito questa premiazione a persone che si sono distinte nel portare al di fuori dei confini dell'isola d'Ischia che è il buon nome della nostra isola. Quest'anno abbiamo scelto Luigi Polito, imprenditore dell'imperatore Travel, al quale ha come dipendente 100 persone e quindi insieme a lui vivono 100 famiglie, serve 100.000 persone all'anno ed è presente quasi in tutta Europa con la sua attività. Quindi risponde al We Serve dei Lions. Esattamente, risponde al We Serve dei Lions che se mettiamo a servizio della popolazione il nostro tempo e il nostro sapere.